Le parole della Presidente von der Leyen, pronunciate qui stamani, non ci convincono. Mentre intorno a noi Viktor Orban spera nel ritorno di Trump e Netanyahu afferma che non ci sarà mai uno Stato palestinese, l'Europa deve decidere se sparire o diventare grande. Non può accontentarsi di scelte a metà. Abbiamo sentito di una nave di aiuti umanitari a Gaza, la prima dopo molti anni, anche della ripresa del processo di allargamento. Bene, ma non basta. L'Europa non può difendere il diritto internazionale a giorni alterni. A Gaza serve il cessato e il fuoco immediato. E affinché l'Europa possa davvero accettare nuovi Stati membri e non illuderli, serve procedere con le riforme. Oggi abbiamo troppi veti e rischiamo di tornare indietro rispetto alla scelta del debito comune, mentre abbiamo bisogno di un bilancio e di una fiscalità condivisa, anche partendo da chi fra i Paesi membri è pronto a fare questi passi. Di fronte a quanto accade nel mondo un'Europa del troppo tardi, troppo poco, finirà spazzata via. Chiedo perciò alla Commissione e ai leader del Consiglio europeo di essere all'altezza del momento che stiamo vivendo. Grazie.